Nonostante fosse agli arresti domiciliari, avrebbe continuato a comandare uno dei clan attivi nel territorio salentino, ordinando azioni estorsive contro i commercianti e gestendo lo spaccio di droga. È quanto svelato dalle indagini condotte dai carabinieri e coordinate dalla direzione distrettuale antimafia, che nelle scorse ore hanno portato all'arresto di 37 persone, 28 in carcere e 9 ai domiciliari. Un duro colpo ai ranghi della criminalità organizzata salentina. Le indagini hanno accertato almeno 26 episodi intimidatori a partire dal 2020, tra atti dinamitardi, colpi d'arma da fuoco contro abitazioni, esercizi commerciali, cantieri, aziende agricole e auto incendiate. Atti di efferata violenza che hanno spinto i cittadini, dicono gli inquirenti, in una grave condizione di assoggettamento. In molti casi non sono state infatti presentate denunce. Il controllo del territorio veniva quindi eseguito in modo capillare e cruento. Le forze dell'ordine hanno addirittura scoperto armi artigianali camuffate da oggetti comuni, con i quali gli indagati avrebbero minacciato le vittime. Una banale penna biro era in realtà un'arma da fuoco. Gli arresti sono stati eseguiti dai carabinieri del comando provinciale di Lecce con il supporto dello squadrone eliportato Cacciatori Puglia, il nucleo cinofilo di Bari e il nucleo eliportato di Bari Palese, nei comuni di Lecce, Carmiano, Veglie, Leverano, Porto Cesario, Novoli, Monteroni di Lecce. Le accuse, a bario titolo, sono di associazione a delinquere di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ma anche detenzione e porto illegali di armi da fuoco e da guerra, nonché di ordigni ad alto potenziale esplosivo.